Salve a tutti cari ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vorrei fare una puntata un pochino particolare. Non vorrei mostrare dei videogiochi ma bensì una rivista che si chiama Gaming Hardware. Un manuale da collezione per i retro gamer, quindi per il retro gamer moderno che non deve chiedere mai. La storia dei videogiochi dagli anni 80 fino al 2001. Quindi all'interno di questo compendio ci sono varie console con le rispettive informazioni e ci sono anche dei retro computer. Io nello specifico farò vedere soprattutto le console 8-16 bit, probabilmente anche la prima Playstation. Però non darò spazio probabilmente ai retro computer perché non li ho vissuti all'epoca quindi per il momento ancora non li ho letti. In verità, quindi per quello che ho letto posso parlarne e lo mostrerò in questo video. Cominciamo un pochino a sfogliare la rivista che è stata distribuita da Sprea Comics. E acquistabile in edicola al prezzo, se non mi sbaglio, di 15€. Un po' cara la verità, comunque cominciamo un pochino a sfogliarla. Non farò vedere tutto, so le cose che mi aggradano di più anche perché il video verrebbe eccessivamente lungo se volessi parlare di ogni cosa. Se riesco, ma non lo prometto, se ci riesco, proverò ad inserire alcune scannerizzazioni della rivista nel video. Quindi qui abbiamo il sommario delle console trattate, quelle dei computer, varie immagini. Questa rivista è molto curata, ha molte immagini, illustrazioni, curiosità, top 10 di videogiochi, pubblicità, siti di riferimento a cui fare capo quando si vuole consultare online la propria console preferita. Qui abbiamo il Siga Mega Drive, è stata la prima console di successo di Siga e secondo alcuni anche l'ultima. Ha segnato la fine del concetto videogiochi uguale passatempo per bambini ed è stata una vera e propria pietra miliare nella storia del divertimento elettronico. Qui abbiamo il prezzo di lancio e il prezzo attuale. Come potete vedere, secondo loro il prezzo attuale è 50€ ma immagino si riferiscano a una console senza scatola. Siga non mancava la voglia di sperimentare con il suo Mega Drive, tanto è vero che fece questo accrocchio che era uno stereo con il Mega Drive all'interno. Il Mega Answer, questa collegata al Mega Modem che era appunto una periferica per fare andare online il Mega Drive, si potevano svolgere operazioni bancarie. Ad Atari fu offerto il Genesis ma Jack Tramiel rifiutò perché pensava fosse un accordo troppo costoso. Qui c'è una lunga intervista a Michael Katz, non pensate a male, è uno dei dirigenti di Sega degli anni 90. Qui abbiamo il Mega Jet, qui abbiamo il Master System Converter, quello ufficiale. Se vi ricordate ne ho fatto una puntata in cui ne parlavo ma con una versione artigianale. Per un appassionato di videogiochi erano tante ragioni per amare il Mega Drive, la più scontata era la vasta biblioteca di giochi disponibili in cui chiunque poteva trovare qualcosa di suo gradimento. Qui appunto ci sono alcune schermate. Il successo del Mega Drive secondo questa rivista è derivato anche dall'ottima conversione di Mortal Kombat, in cui inserendo un codice si poteva attivare il sangue e le fatality. Molto interessante, all'epoca la versione Super Nintendo era censurata. Qui c'è una top 10 di videogiochi secondo i redattori della rivista. Abbiamo Sonic the Hedgehog 2, Gunstar Heroes, Devil Crash, Streets of Rage 2, Strider, Desert Strike, Return to the Gulf, Shinobi 3, Return of Ninja Master, Echo the Dolphin, Thunder Force 4 e Shining Force. Devo dire che è una lista niente male, ma non è tutto quello che avrei inserito io, probabilmente avrei cambiato alcuni titoli. Comunque passiamo alla console successiva. Siamo arrivati alla PlayStation, un nome importante nell'industria videoludica sin dal 1994. Infatti il nome PlayStation oggi è sinonimo di videogioco, ma la via verso il successo di Sony non è sempre stata in discesa. Seguiteci in questo viaggio nella storia di quella che è stata una delle console più importanti di tutti i tempi. Qui c'è scritto l'anno in cui è stata distribuita, il prezzo al lancio, quella attuale, 30€, probabilmente si riferiscono a una console senza scatole. Qui praticamente ci sono delle nozioni rapide, il prototipo, ci dovrebbe essere anche una foto del prototipo della console Nintendo PlayStation, Nintendo Sony, che non ha mai avuto luce quella console, non è mai stata rilasciata per via degli accordi saltati. Qui abbiamo la memory card, le varie versioni di PlayStation, ecco qua la SNES PlayStation, Sony PlayStation, la NET Yaroze, questa era utilizzata dagli sviluppatori, la PS One, il modello fatto a risparmio più piccolo, con la possibilità di rimontare uno schermo LCD. Il successo di PlayStation avrebbe potuto assegurare il dolce gusto della vendetta. Questi sono i siti principali su cui potete consultare informazioni relative alla PlayStation 1. Questa diciamo, questa station to station scimiotava un pochino, la VMU del Dreamcast, la verità proprio. Qui ci sono delle informazioni, i vari loghi che erano stati sviluppati per PlayStation, molto interessante, e i 10 giochi top. Quindi abbiamo Tomb Raider, Gran Turismo 2, Final Fantasy Tactics, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Tekken 3, Enhander, Final Fantasy 7, Castremania Symphony of the Night e Bagram Story. E più o meno qui abbiamo molti ottimi titoli, a parte la PS One è stata una console con una ludoteca di poco eccezionale, quindi direi che tutto sommato è una lista abbastanza fedele a quelli che sono stati i gusti dei consumatori dell'epoca. Passiamo alla parte successiva, probabilmente sarà l'ultima anche perché il video sta venendo piuttosto lungo. E veniamo, infine, trattiamo l'ultima parte del Neo Geo S. Questa console è stata di nicchia ma fondamentale per portare nelle case dei videogiocatori quelli che erano gli arcade in forma uno a uno. In pratica, le conversioni da sala giochi erano perfette su questa macchina, proprio perché la base MWS su cui giravano era la stessa architettura del Neo Geo S. Quindi, nonostante questa console non sia stata supportata nella produzione a lungo, infatti questa è stata dismessa nel 96 come produzione, è stata supportata a livello di giochi per molti anni, se non erro, fino al 2004. Quindi, per questo si dice che è la console più longeva di sempre. Infatti qui dice, il gigante nero di SNK sconvolse i giocatori nel 1991 con cartucce enormi, controller più grossi, un prezzo stratosferico. Unitevi a noi per ripercorrere la storia della console più longeva di sempre. È la prima a portare la vera perfezione arcade nel vostro salotto, se ve lo potevate permettere. Quindi qua ci sono delle informazioni. Questo doveva essere una sorta di mascotte del Neo Geo Bigger, Badder, Better. Questo cane che voleva sbranare la concorrenza. Questo è l'adattatore per poter utilizzare le cartucce MWS sulla S. Il Neo Geo è il sistema di gioco più apprezzato e potente in circolazione. Questi sono i siti di riferimento per quanto riguarda la community Neo Geo. Samurai Shodown 5 Special, l'ultimo controverso gioco Neo Geo. Questo se non mi sbaglio non fu granché apprezzato perché fu censurato. Quindi diciamo che rimasero un pochino delusi i possessori del Neo Geo. Qui abbiamo il sempreverde Neo Tarf Master, gioco molto costoso. E questi sono i 10 giochi top, secondo i recensori del Neo Geo. Quindi abbiamo Samurai Shodown 2, Meta Slug Immancabile, The Last Blade, Blazing Star, King of Fighter 98, Windjammer, Garu Mark of the Wolves, Neo Tarf Master, Fatal Fury Special e Pool Star. Questi invece sono altri giochi considerati ottimi. Ma Neo Geo per quanto riguarda i picchiaduri, la macchina proprio dei re, c'è tanta qualità e quantità. Qualche sportivo interessante, alcuni sparatutto di ottima fattura. Purtroppo gli RPG mancavano. Platform, insomma qualcosina poteva esserci, ma veramente poca roba. Una macchina destinata agli hardcore gamer della sala giochi, che volevano appunto migliorarsi e fare il like score. E niente ragazzi, vabbè qua si parla dell'Amica CT32. Non mi voglio dilungare oltre che il video già è venuto abbastanza lungo. Quindi, niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questa rivista. Se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento. Tutte quelle cose che farebbero sì che il mio video venga apprezzato da altre persone, perché in questo modo riceverà maggiore visibilità. Quindi non mi dilungo ulteriormente, vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video che non tarderà ad arrivare. Ciao belli!